Il Carpi è favorito, ma noi non ci... grande, dai, dai, dai che torni Dai, dai, dai che torni, sta tornando, eh, piano piano, Elvis Sta tornando, Elvis, teniamo la riunione Go Allora, manteniamo un gioco equilibrato, direi E... giochiamo stretti così gli ingolfiamo il centrocampo, bravissimo Li tiene in forma, ok, ok, se li tiene in forma va bene Ci sta a metterne uno ogni tanto, Spal, vittoria facile Ho il Carpi è il diciottesimo e questa dobbiamo vincerla, eh Sì Non possiamo farcela sfuggire Assolutamente Ok, ok, non del tutto recuperato, va recuperato recentemente, è abile Poca forma partita, questo è ovvio Però va fatto giocare sicuramente, non dal primo minuto probabilmente Però c'è Tuxet che è messo, malissimo Spinozzi Come? Spinozzi dente Questo è poco ma sicuro E poi? Sì, Tuxet lo toglierei O facciamo giocare in mezzotempo a... a Elvis E poi via Dovrebbe Tuxet Come, no, dico, com'è messo Chi? Kabashi Kabashi 83-61 Ma, c'ha... deve recuperare? Forma partita, forma partita, cosa ti dice? Clicca su Pra Cioè, passa sopra PRA Prova atletica PRA dice, non c'è bisogno di un'esame, non ancora appunto del tutto andrebbe a mani di Tuxet Eh, non può giocare Nicolio 0-0 Cioè, non scherziamo Sì, 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 sì Eh, io metterei uno al posto di Tuxet, non lo so Se vuoi far giocare di Ersen, se vuoi far giocare Luperini, non so, vedi tu Comunque, per me Caccia gioca oggi Caccia gioca? Ma No, 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 lo mettiamo Lo mettiamo a fine primo tempo, ma Yamaha si è forte di Zambattaro Cioè, almeno è più in forma Zambattaro non ha ritmo partita niente, è zero proprio Eh, io starei così Purtroppo, Tuxet al fine primo tempo lo cambiamo per Kabashi Sì Sì, sì, sì Eh, mi sembra l'unico Gallupini va a fanculo anche Direi Come ci siamo? Forza ragazzi, eh C'è Minardi che lo stiamo giocando sempre, prima non lo giocavamo mai E... Sta anche facendo un buon inizio Mmm Dai Chi sta? Dai Eh beh, perché non c'è Kabashi Dai ragazzi Attenzione Kaipi schierà a Colombia in porta Milic, Polis, Abione Paciocic in difesa Dall'Olio Saric a centrocampo Dietro la punta a Righini Ma è su e Amulatirigenic Che schifo Dall'altra parte Incredibile La Pistogliese fortissima Romagnoli in porta Iames Dossena Cicrelli Ma è sano a difesa Davanti alla difesa Spinozzi Accede un capo Treset Minardi Dietro l'unica punta Torregrossa E ma uso sulla sinistra E l'eccezionale Rovini in attacco Vai Sei parte Sembri Sandro Ciotti Dai ragazzi Tu che sei giovane come me lo sai chi è Certo È morto mi sa Non so se è morto Sì sì Da un bel po' No 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 Va bene va bene Vai tranquillo Vai tranquillo Siamo arrivati preparati Dai ragazzi Dai ragazzi Coraggio eh Era su Radio 1 Coraggio Equilibriata All'inizio All'inizio Creatività Direi Creatività Sì sì Beh scudetto me lo ricordo PC Calcio Io giocavo All'inizio C'era anche Championship Manager Championship Manager Allora Dieci minuti Dieci minuti Ai 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 Subito punizione Saric La giocata Per dall'olio È bella giocata Caputano Ninghia Minghia Boh Buttala via Va bene Ragazzi 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 Domando di più Domando di più subito Siete fatti di male eh Siete fatti di male Ci vuole più piglio Più piglio E il carpi va battuto Va sconfitto Fa cagare il carpi Onestamente Dai Diciamolo 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 Dai quattro tiri Quattro tiri Zero in porta Che dove vanno Sti tiri Secondo me Torregrossa Ci vuole Torregrossa comunque Concentrazione Sono sempre sopraffatti Quando io faccio I privi No è concentrazione Che non va bene Romagnoli Attenzione Batte Romagnoli Bravo Piano piano Palla al piede Dossena Guardatelo Dossena Come ci pensa Yamas Vediamo come la gestisce C'erroimo davanti solo C'erroimo davanti solo Vabbè Sceglie dietro Tanti giocatori In un fazzoletto Tag set Vediamo come gestisce la palla Scegli Minardi Eccolo lì Emma Uso Emma Uso Non perdere palla Bravissimo Lancia Torregrossa Che ce l'ha Ce l'ha il passo Ce l'ha il passo Torregrossa 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 Metta positiva Creatività Vai vai Positiva e creatività Positiva e creatività Creatività positivo Positivo Creatività Cosa è così Fulto manager Uno Wow Minchia Questo era proprio vecchio Cazzo Torregrossa un bidone No 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 Allora tattiche Tattiche Dentro Elvis A posto di tag set Lo so Lo so Che non le rischio Lo so con le rischio Ragazzi Doppia Torniamo A mezzale Registri avanzato Capito Non ho fatto Non ho parlato Nella squadra Vabbè 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 Ha fatto la foto Davvero Ha fatto la foto Attenzione Ceccarelli Ceccarelli Dietro per Dossena Dossena Rete Rete Non l'ho vista Rete Dossena Vantaggio Pistoiese A Carpi Gravi così Grande giocata Dei due difensori Fammela vedere Fammela vedere Ha fatto un balzo In sesta posizione Rovini Il lancio Stiamo tranquilli Perfetto Yamas lancia Di nuovo Per Torregrossa Torregrossa Eccezionale La mette in mezzo Emauso Di testa Emauso Che Ete Che Ete Bravissimi Ragazzi Che Stottito Torregrossa Comunque Mamma mia Ha messo giù La palla Loda Loda Guarda lì Si si ha fatto Uno stoppazzo Pazzesco Torregrossa Miseria Un po' cambiata La situazione La davanti Della verità Era piccoli Un gran giocatore Ma Diciamo Vabbè Quest'anno Imparerà 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 Ad altre migliori Loro Torregrossa Attenzione Si fa anticipare Vediamo un po' Minardi Che corsa Minardi Prende la palla Adesso si aveva Torregrossa Sulla fascia Torregrossa Attenzione Potrebbe rimetterla in mezzo Che osse Orribile No Non da prendere Monachiello Oh mamma mia Fiammateli Fiammateli Cazzo No È solo quello Fiammano Fiammano Romagnoli Bravo portiere Sbagliare Romagnoli Bravo Facciamo un cambio Eee Sì Sì Mettiamo Sambatorla Mettiamo Che stanco Minuti A Zambataro Eee E mausso Che è più stanco Che è più stanco Che è più stanco Che è più stanco Ha fatto gole mausso Capito Min Mi rompe toglie Eh aspetta un po' Dai Aspetta un po' Aspetta un po' Tanto c'è tempo Sai com'è per la playstation C'è football manager per la play Non lo sapevo Nicolmi Non ne ho idea Non lo so Nico Penso Sì Penso che esista Lo so che esiste Però non Cioè Non so quanto sia facile Gestire Non so Che è ancora nostra Elvis Guardate Elvis Come la poggia E rovini E rovini non la perde mai Spinozzi Potrebbe allargare sulla sinistra Rialargare a destra Allargare a destra E mausso il velo No Non fa il velo Però c'è Yamas solo Guardate che classe questa squadra però Giardio Che classe bellissima Yamas ancora lui Ancora lui a gestire la palla Dossena Ho paura Che sta succedendo? E aiaiaiaiaiaiaiai Rosso E da dietro così non si fa È mio caro Mulattieri Mio caro Mulattieri Spinozzi entra in campo con il giallo Di default Sì Gio Gio 勇dio E beh beh L'ai Che telino è rosso 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 Mulattieri Mi sa che deve l'inter Cambiamo Sì dai Cambiamo, diamo fiducia Io darei minuti nelle gambe A quelli che non l'hanno fatto Fai giocare di Ersen Ma di Ersen fa cacare Non lo metterò mai Ma di Ersen fa schifo Odiamo Kacia E metti Kacia, via Metti Kacia, basta, conferma Dobbiamo far giocare Li un po' tutti Velocissimo l'Arivedo L'Arivedo è potentissimo Ottantesimo Attenzione ancora Attenzione alla Carpi che non molla Palmiero Per Jelenic Possiamo rubargliela la palla lì Possiamo rubargliela Palmiero ancora All'olio Dai rubate palla lì Dai cazzo Jelenic Paciancic Un cross incredibile per Maesturia Che tira al volo Porca miseria Che palla ha fatto Porca boia Sì dai comunque non può essere così la serie B Cioè ho fatto Kacia di serie A con l'intra Non l'ha mai visto ste cose Ragazzi Concentrazione 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 Ah sono sopraffatti la feedback Non vi riconcentrate Romagnoli Lancia lunga Minardi Minardi Bello il passaggio di Romagnoli per Minardi Allarga per Zambataro Dai Zambataro Fatti vedere che ci serve un terzino destro potente Guarda lì Kabashi Kabashi ce l'ha il tiro sinistra Attenzione al giro Buh Cassone Kabashi Fa vedere che non è lì per caso Non è lì per caso Kabashi Novantesimo Fischia la fine Calma 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 Finita Finita 94 Calcio un angolo per noi Dai 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 Kacia No no libero l'oro Finita 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 2-0 per noi Bravi Bravi Complimenti Grandissima prestazione in casa del Carpi Grandissima 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 In modo appassionato Ragazzi Sono davvero felice Sono davvero felice Grande partita a parte di tutti Va detto Cioè Se vedi 7 e mezzo romagnoli 8 e 3 Dossena Che ha fatto anche il gollone 7 e 7 Un po' Un po' Un po' scarso Maesano Questo va detto Però Bene Bene Kabashi Che è tornato È tornato Tornato in campo Bene Dai eh Secondo me Stiamo andando molto bene Due vittorie Un pareggio Una sconfitta Salviamo Bravo Questa è una cosa fondamentale Vero in tanto Kacia E intanto Siamo a sesti Come funziona la serie B Le prime 8 Dal 3 Scusami Dal 3 all'8 Le prime 2 dirette Allora La 3 all'8 Ne passa 1 Allora Andiamo a vedere se Mister Patata Dov'è Patata Che ha messo il link Ma me l'ha messo in privato Non so se l'ha condivido No Non l'ha messo a tutti Io non l'ho vista La giro io Dove? Su Telegram Telegram Ragazzi Non ve lo farò vedere Ma Patata È andato giù Ha fatto la foto Che ci ha scritto Galuppini Facciamo la conferenza Conferenza Quanto risultato Ha fatto fare Per essere felice Certo Certo Ancora una volta La rete resta inviolata Bravi Bravi ragazzi Credici Mi piacerebbe Aggiungere la rosa Definitivamente Chi Yamas Yamas Eh beh Elogiamolo Elogiamolo Continua così Do se Dai Comunque grande inizio Eh Ragazzi Qualcuno Avrà detto che la serie B Non saremmo stati all'altezza Io vi ricordo Che eravamo il 600 E eravamo dati 1 a 600 Questo lo scarto Questo scarto Rincon Ciao Rincon Non è quello Sì Lombardau Penso a un'offerta Per il cantellino Yamas E sapete com'è Ma è quel Rincon Budi Quelle rincone Non ho capito È quel Rincon Del Torino Non credo Non avrò un nome A brasiliano Rincon Del Torino No No Ok No 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 Allora I portieri della squadra Sono lacunosi Nelle palle alte Attenzione I portieri della squadra Sono lacunosi Nel comando dell'aria Quindi Dobbiamo Fare dei cross Esatto Cross E soprattutto Anche Cercare i calci di punizione I calci piazzati Va bene Lo facciamo Lo facciamo Scionito Circolazione palla In allenamento Va tutto bene Bravi Bravi Poi quando andremo In serie A No Perché chiaramente Lo diamo all'allenamento Dai Bravo Bravo Ho lodato L'allenamento Di uno A cazzo Forse è il mio portiere Di riserva Che non cago mai Poverino Salianditana Quinta È la Salianditana E poi Si gioca Contro Dossena vince Il MVP della settimana Contro che giochiamo Guarda dopo Salianditana Poi Cosenza Dopo tre giorni Quindi insomma Come sono messi È Salianditana Quinta E Cosenza E Cosenza Guarda Dobbiamo stare Dove fare il turnover Secondo me Non qui Non adesso Dici Non adesso Cioè Stiamo in un Buon momento Sì che abbiamo Tre partite Avvicinate Ma dobbiamo abituare Eh sì Capito Iniziamo a far giocare Anche gli altri Siamo forti Sulla destra Applica Spunta al destra Non so Vabbè Vabbè Siamo forti Sulla destra Non lo so Cioè sì che c'è Rovini Quindi per forza Siamo forti Sulla destra E' un po' Eh Buona affluenza Buona affluenza Eh Ah ma Giochiamo a A Salerno E là che cazzo Me ne frega 20 tifosi Della Pistoiese Ragazzi Grazie a tutti 20 tifosi Uno a uno Io ricordo Tutti i 20 tifosi Della Pistoiese Che sono andati a Salerno A Tifare Perché se avete Twitch Prime Potete sapere gratis Quindi insomma Potete anche supportarmi Direttamente E' favorita La Salerno Italia Da fare schifo Da fare schifo Posta ne arrivo Teniamo la riunione Teniamo la riunione E io direi che In modo equilibrato Possiamo essere Bene Che ossate di prima Vedi 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 Me li hanno Me li hanno anche consigliati Ci accateli Immagate a destia E cerchiamo anche I calci piazzati Vabbè Quelli prima Vabbè Lo stesso Lo diamo piccoli Dai Galoppini 5 Sempre peggio Galoppini è incazzato Budi C'è poco da fare Galoppini non gioca No è un paio coglioni Vabbè La prossima la giocherà Vabbè Sì Magari lo mettiamo An'altra Però Cioè Non può permettersi Di essere così Cioè Io ti ho portato A Pistoia Una grande località Bella Fresca La riviera Pistoiese Famosa in tutto il mondo E Cioè Tu Ti alleni Da 5 Ma dai Ti sto facendo giocare Con un giocatore del calibro Di Elvis Cabasci Cioè Dai Ma scusi Ma come si permette Di dire che non è rinforzata La società Cioè Che vuole Non ho parole Che andassero a farlo Lui l'editore Allora Lo mettono in Andrea 18 Piccoli Ma si dai Farò giocare un po' Tanto in effetti È giovane Potrebbe starci Sì Alla fine Con torre grosse caccia Eh lo so È difficile Che giochi Deve andare a farti Un fine settimana Romantico a Pistoia Allora Ci sta Ci sta Ci sta Oh I seguenti Contri Saranno scelti Per la diretta tv Alla Pistoia Senderanno 12.000 Bombe Attenzione Sti cazzi Sti cazzi Ragazzi Oh Non è che sto qua Io Eh Reazione Segna eh Se mi vuoi dannamento Io lo piglio Allora Allora C'è da capire un po' Come muoverci Kabashi di nuovo Non è in forma Un cazzo Di schifo Lascia così Come si fanno i cambi La prossima Questa è la formazione Tipo Tipo Eh si Questa è la nostra Formazione Tipo Farei un paio di cambi La prossima Con Altro 5 giocatori Da cambiare almeno Se no posso Non lo so E fare un qualche cambio Adesso Esatto Potrei togliere Un mouse Per bugger Dai dai Metti i galoppini Dai bugger Non ci puoi vedere Piuttosto Metti i galoppini Piuttosto Dai No galoppini No galoppini Ma si allena Come la merda Io devo mettere galoppini L'ho anche compiato Ma guarda Tesso l'ho anche compiato Sto coglione Io non lo so Dai è forte Il risultato acquisito Capito Devi dargli anche fiducia Se no S'arrabbia Vedi che è giù È giù È giù È giù E ci sta giù E ci sta giù E pure forte E pure forte Non è malissimo Attenzione La Salernitana Gioca in casa Iconi in portamica I pagniacce I chignotti Mantovani Puccino Di tacchio Nella mediana Assieme a Castiglia E Murgia A sinistra E a destra Giallo In attacco Non tanto giallo Nero Alessandro Murgia Ma vaffanculo Anche fortissimo La pistoghese risponde Io bagno l'importa Yamas Dossena Cegarelli Ma esano Spinonzi Tagset Minardi E poi in attacco Incredibile Bagger Gli diamo fiducia E sembra Che abbia 13 anni Dalla foto Bagger Romini sulla destra E torre Grossa In attacco Io mi fido di voi Ho molta fiducia Di voi Andate Andate E vincete Per noi Voglio che riprendiate Dove l'avete lasciato E credo in voi Ragazzi Credo anche Nel centrocampo E credo anche nell'attacco Non ci crederai mai Dai A lei Dai Dura Ragazzi Era dura Partita difficile Partita difficile All'inizio Io voglio Sempre creatività Lo sapete mai Come Come imposto Dal punto di vista Mentale La pistoghese Ok Ci vuole creatività Comunque giocare Cari meno Maezano In serie B Mi viene tristezza Devo dire Non è In realtà Dai Non è tremendo No Ha solo qualità fisiche Un po' mentali Attenzione Pagliacci Calcio ad angolo Palombi Niente No Cosa chiedono rigore No Dai Ma non è vero mai Che è successo Ma dai Ma chi è rigore di me Ma cazzate Romagnoli Dai Romagnoli Romagnoli Ce l'hai Ce l'hai La puoi parare La puoi parare Ma Romagnoli E' al centro Romagnoli Ma io te l'ho detto Quello fa il cucchiaio Stai fermo Mostrate un po' di grinta Ragazzi Dai Al quattordicesimo Subito gol Minardi hai fatto cagare Per quello L'ho visto che hai spinto Dovevi essere un po' più intelligente Voglio farci il cucchiaio Dai ragazzi Dai Un po' di brio Un po' di brio Ci vuole Un po' più di cattiveria Andate avanti No oso Non abbiamo personalizzato un culo Non siamo capace Non siamo capace È il momento di andare un po' più aggressivi Io non ci sto Positiva Io non ci sto Domanda di più Mi domando di più Mi domando anche di più Dai ragazzi Dai voglio il pareggio Voglio il pareggio Attenzione Mikai Rilancia lungo Vediamo chi la mette giù Dossena Taxet Taxet C'ha la palla Attenzione A sinistra È libero È libero Bagger Che è come un fulmine Corre Bagger Vediamo se libera No Bagger Porco schifo Rubagli palla Montavani non ce la fa Non ce la fa Montavani Rubategli palla Rubategli palla Eccolo Taxet che ruba palla E segna C'ha creduto C'ha creduto fino in fondo C'ha creduto fino in fondo Taxet E la dirigenza non lo voleva Capito Quella merda di Orazio Schifo Io ce l'ho sempre creduto Schifo Orazio Attenzione Ancora noi No no E pagliaccio Rovini Rovini ruba palla Attenzione Sulla fascia Rovini Sono tutti in mezzo Tutti in mezzo Vediamo se tira Attenzione Incredibile Potevi anche passare Dai rovini Deve passarla Lì la potevi anche passare Ancora noi Calcio d'angolo In mezzo Torregrossa Svetta Traversa Torregrossa Capuntana Che figa Che bugger Taxet Taxet gestisce Va bene Per Dossena Non ci fanno vedere più niente Tre minuti di recupero Gran partita Taxet ragazzi Gran Mamma mia Di taxet Ok Fino a primo tempo Allora Stiamo 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 giocando bene Stiamo giocando bene Eh sì Devo rimanere concentrati Ragazzi In modo energico Non siamo favoriti Ma scendete in campo E regalate un'emozione Ai tifosi L'emozione voglio Voglio più emozione È il momento È il momento di buttare Dentro Caccia Nella mischia Ma come? Così? Così Va bene? Fidati 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 Puntiamo tutto Su Caccia Torregrossa Non l'ho visto bene Non l'ho visto bene Ragazzi All'inizio Calma Non c'è Non c'è fretta La calma Ci permetterà Di portare a casa Questa partita Difficile Che grande allenatore Grazie Ergot Grazie Ergot Eh quest'anno Con Bobber Caccia Ergot Va meglio Eh lo so Lo so Anche bugger Comunque sto giocando Da schifo È 6 e 4 Chi? È il momento di Bugger È il momento di Di maus No 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 questo è Desteros Ah ok Vai lo faccio Lo faccio ragazzi È tempo di Gallupini Gallupini ho messo Schifo cazzo Aspetta Vado di più Ho sbagliato No va bene Ah C'è canto esterno Santanovesimo Non c'è niente Fai gol Francesco Se lo siamo Nei casini Domanda di più Sempre Calma No calma 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 Vedi che se ne fottano Eh se ne fottano Comunque Ottantesimo No dai ragazzi Ragazzi Domanda di più Forza Facciamo una Sostituzione Li mettiamo Togliamo 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 Cavaccio Bravo Togliamo Grand partita Dai dai Portiamola a casa Portiamola a casa Ragazzi Portiamola a casa La partita Cazzo Dovantesimo Niente 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 Attenzione La punizione Rovini Il novantatresimo La butta in mezzo Vediamo se No Puccino Puccino Cazzo Mette anche il contropiede Brava Finita Ragazzi Devo dire Che siamo Abbiamo fatto una bella partita Non posso dire nulla Però ok L'ho fatto cacare Calmo Ragazzi Bene Grandiose Gli ho detto dei grandiosi Ci vuole Buon umore Un grande pareggio Grande pareggio Va detto Grande pareggio La partita È Stata bella Cosenza e Corotone subito Eh sì Grazie Ci stiamo comportando bene E il problema è che ho fatto giocare Gallupini Non è lì Non so chi è che me l'hanno consigliato Pistro io sarei Pistro io Grazie per la visione!